Musica Cari democratici lombardi, il Partito Democratico sta facendo rinascere la speranza nel nostro futuro. Anche le persone più lontane, quelle più disincantate o disilluso, ricominciano a sorridere e a dire si può fare. La politica sta dalla parte del cittadino, dei propri bisogni e delle proprie esigenze. E se noi leggiamo il programma del Partito Democratico, che è molto importante per la Lombardia, troviamo tante cose da fare, dal federalismo fiscale alla detassazione per le famiglie, ma tutte incentrate su una parola chiave, quella della buona politica come architrave del progetto. E sono quattro i problemi dell'Italia e anche gli obiettivi che Veltroni indica come sfida, molto importanti proprio per una regione come la Lombardia. L'efficienza economica, la libertà e l'uguaglianza, le pari opportunità e anche la credibilità delle istituzioni. Io credo che questi aspetti siano molto importanti appunto per una regione come la Lombardia, una regione che è ricca, che è avanzata dal punto di vista sociale, ma che è stata troppo trascurata dalla politica. E altre parole chiave che troviamo nel progetto, l'attenzione alle imprese, al federalismo, alle donne, allo sviluppo economico e anche alla posizione dell'Italia in Europa, diventano strategiche in una regione come la nostra. E pensiamo anche che in una regione come la nostra noi potremmo trovarci, per la decisione del Presidente della Regione Formigoni, di candidarsi alle elezioni, fra pochi mesi, speriamo il prima possibile, ad elezioni anticipate. Ed è per questo che dobbiamo avere particolare attenzione al programma nazionale e a tutti gli aspetti nuovi e innovativi che il Partito Democratico ci sta offrendo. Pensiamo anche che in una regione come la nostra, in cui ci sono forze politiche che si dicono federaliste, non abbiamo ancora uno statuto, lo si sta approvando solo ora. Ed è allo statuto regionale, che è la Costituzione della nostra regione, che noi abbiamo dedicato un'iniziativa, che si terrà il 7 marzo, il pomeriggio, all'Hotel Doria, ed è incentrata soprattutto sugli aspetti che riguardano lo statuto e i diritti delle donne, le norme sulle pari opportunità. Ci saranno politici e tecnici e in particolare hanno assicurato la loro presenza Maurizio Martina e Giovanni Bianchi e il tutto sarà coordinato da una giornalista del Corriere della Sera, Manuela Righini. Questo perché noi crediamo che è necessario che la politica si rinnovi attraverso un proprio comportamento, ma anche attraverso l'acquisizione di regole chiare, precise e che valgano per tutti. Grazie. 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 Grazie.